Edoardo Lombardi, segretario generale del comune di Napoli, parliamo di un molisano originario di Monte Roduni che ha scalato tutti i gradini della carriera burocratica comunale conseguendo l'abilitazione a segretario comunale a soli 18 anni e subito dopo prendendo servizio nel comune di Nocera, Umbra. Dopo anni e anni di incarichi di prestigio in enti e comuni di quasi tutta l'Italia, Lombardi finisce la sua carriera a Napoli come segretario generale del capoluogo campano, una vita da funzionario giramondo con la valigia sempre pronta e con la famiglia che lo avrebbe seguito in ogni angolo d'Italia. La sua straordinaria carriera cominciò nel 1926 e finì nel 1972 a Napoli. Oggi, a diversi anni dalla sua scomparsa, il figlio, l'avvocato tributarista Marco Lombardi, ha deciso di ricordarne l'esempio di attaccamento al dovere e di senso delle istituzioni scrivendo e pubblicando un libro in cui sono raccolte le immagini di i documenti e gli articoli di giornale che raccontano passo dopo passo la straordinaria vita del segretario generale di Napoli partito da Monteroduni, un molisano di valore che ha fatto onore alla nostra regione. Mio padre, cominciando dal gradino più basso della carriera, ha inteso fin da ragazzo di fare il segretario comunale, si è dedicato a questo per tutta la vita, ha studiato a Caserta da Interno, a 18 anni si è abilitato alle funzioni di segretario comunale, lui era un ragioniere, si era abilitato in ragioneria, a 18 anni ha fatto l'esame di abilitazione e è risultato primo in Italia, ci sono le gazzette ufficiali che lo testimoniano, dopodiché ha cominciato a concorrere e per tutta la vita ha concorso. Quando cominciò aveva 18 anni e ha finito a 65 anni come segretario generale di Napoli. Sì, perché lui ha iniziato, è partito da Monteroduni, 1926, primo comune Nocera Umbra, da Nocera Umbra a Sinigo, da Sinigo ad Acerenza, da Acerenza a Ultimo, a Ultimo a Malles Venosta, siamo in Trentino, Malles Venosta, Albona e siamo in Jugoslavia, Albona Pola, Pola Frosinone, Frosinone Vercelli, Vercelli Campobasso e qui ebbe l'incarico anche dalla commissione alleata di fare l'ispettore alimentare dell'alimentazione per tutti i paesi della provincia di Sernia e di Campobasso. Da Napoli poi ha vinto Milano e quindi a Milano poi mia madre disse basta marito mio, non ce la faccio più, non ti seguo più. Mio padre rinunciò a Milano e poi ha vinto Roma, a Roma eravamo tutti entusiasti di andare se non che mio padre forse era stanco di peregrinare avanti e indietro e quindi rinunciò anche a Roma e rimase a Napoli.